ciao problemi di cellulite ti propongo un massaggio con la crema termogena al capsico stimola la circolazione generando un effetto snellente l'attività vasodilattatrice del capsico ti aiuterà a sciogliere tutti i cuscinetti adiposi i massaggi vengono eseguiti su lettino ad acqua direttamente dal titolare san germano enrico diplomato seme socio effettivo della croce bianca che opera nel settore del 1999 il lettino oltre a essere ergonomico e anche termoregolabile prenota allo 011 749 8586 consulta il sito www.centroesteticomassaggitorino.it per avere un'idea sulla varia gamma dei massaggi ti aspetto in corso lecce 38 a torino ciao il primo massaggio della durata di un'ora lo paghi solo 20 euro e se venite in coppia entrambi riceverete un granito omaggio allora cosa aspetti prenota 011 749 8586 ciao ti aspetto